beauty shape l'unico dispositivo che permette di eseguire ben quattro trattamenti è un macchinario nel quale sono raccolte le migliori e innovative tecnologie per la cura del proprio corpo e quindi perché accontentarti di un solo risultato quando con una singola seduta ne puoi ottenere ben quattro andiamo a vedere nello specifico come lavora questa apparecchiatura prima nel corpo e poi nel viso innanzitutto per quanto riguarda il corpo abbiamo un'azione di rimodellamento della tua silhouette delle tue forme vengono scolpite attraverso l'azione del vacuum un risucchio avviene praticamente un' aspirazione scollamento dell'adipe della massa muscolare come se fosse proprio una vera e propria ventosa e quindi come conseguenza una dimensione di centimetri il secondo effetto è quello del massaggio di impastamento con rulli abbiamo una spaccatura del tessuto connettivo diposo attenzione uso dei termini forti ma non preoccuparti è un trattamento indolore non deve fare male non fa male l'unica cosa che puoi avvertire è un gran prurito perché perché nell'immediatezza avrai una riattivazione del microcircolo e quindi richiamo di ossigeno in superficie e nonché una profonda azione di drenaggio svuotamento dei liquidi terza funzione attraverso led e infrarosso avrai una piacevole sensazione di calore un effetto termico un'azione di luce fredda e luce calda cosa fanno praticamente loro andranno a sciogliere le tensioni muscolari ma soprattutto evitare gli avvallamenti i cosiddetti grumi per capirci meglio quarta funzione il completamento la presenza della radiofrequenza avrà donerà un effetto di compattezza e turgore alla tua pelle in quanto grazie agli ultrasuoni questi cosa fanno vanno a stimolare i fibroblasti che non sono altro che delle cellule della pelle a fare che cosa a produrre a loro volta altre cellule elastina e collagene che io le definisco solitamente in consulenza come cellule che fanno da impalcatura fanno da impalcatura da sostegno alla pelle ai tessuti del nostro corpo quindi in caso di dimagrimento aiuta la radiofrequenza proprio a tonificare in questo specifico situazione con il beauty shape andiamo a dare questa sensazione di compattezza al tessuto questo per quanto riguarda il corpo per quanto riguarda il viso invece chi l'ha provato ha riscontrato che cosa tessuti più compatti quindi ottimo tono della pelle borse perioculari attenuate quindi le borse sotto gli occhi si svuotano e di conseguenza si attenuano ma soprattutto tessuti più ossigenati quindi volto viso più luminoso e per ultimo non di poca importanza il dimagrimento del sottomento e del contorno del viso e bene con questo vi ho spiegato oggi il beauty shape un'altra apparecchiatura importante anche questa inserita nel nostro percorso di dimagrimento spero di essere stata sufficientemente chiara nella spiegazione nell'eventualità se avete qualche domanda qualche informazione ulteriore da chiedere da approfondire non esitate non esitare sono a tua completa disposizione e quindi non mi resta che augurarti sempre una buona giornata ciao